la loro settimana galleggiava i quattro barboni sono morti in quattro si sono uccisi senza conoscersi in luoghi diversi dalla città avevano in comune soltanto la domenica come malattia sociale la loro settimana galleggiava non avevano né casa né tetto ma alla fine passava la domenica invece era una prigione nel grigio dei palazzi vedevano sorgere a volo i segnali rossi e verdi dei semafori deserti qualcuno dalle macchine girava la testa per guardarli ma per i barboni le ore della domenica erano le più inutili della settimana così il desiderio di farla finita si è materializzato di domenica commento i giorni di festa privi del chiasso del quotidiano spesso costringono al dialogo intimo e se l'evoluzione è insufficiente l'individuo non si vuole conoscere ed è soffocato dal suo vuoto interiore molto più che nei giorni ordinari questa consapevolezza a volte lo travolge sino al suicidio non si vuole conoscere ed è insufficiente l'evoluzione è insufficiente l'evoluzione è insufficiente non si vuole conoscere ed è insufficiente l'evoluzione è insufficiente l'evoluzione è insufficiente non si vuole conoscere ed è insufficiente l'evoluzione è insufficiente non si vuole conoscere ed è insufficiente l'evoluzione è insufficiente l'evoluzione è insufficiente non si vuole conoscere ed è insufficiente l'evoluzione è insufficiente l'evoluzione è insufficiente